In sala stampa, il tecnico dell'Entella Gian Paolo Castorina ha analizzato il pareggio interno contro la Cremonese. È un pareggio secondo me giusto, è un punto importante per noi perché venivamo da due sconfitte consecutive e le tre partite in una settimana tolgono tanto dal punto di vista nervoso. Nel primo tempo abbiamo fatto bene dal punto di vista del fraseggio, ma abbiamo faticato a trovare la profondità, meglio nella ripresa quando i due attaccanti sono stati maggiormente serviti. Non a caso è arrivato il gol riporta cuore grigio-rosso.